Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, nuovo video di giornata, ne seguirà un altro perché oggi ne è una per tutti, ma parleremo di Paolo Di Bala, delle parole del buon Paolino Di Bala che ha rilasciato delle dichiarazioni ieri dopo la partita, dopo una buona gara secondo me, può fare di meglio, sicuramente sì, però insomma è un giocatore che fa la differenza in questa Juventus e quindi questo va sottolineato a più riprese. Prima di iniziare vi invito a mettere il like al video, iscrivervi al canale, ragazzi, pochini, 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 pochini gli iscritti ultimamente, è vero che la Juve ahimè non ci sta dando grosse soddisfazioni, però insomma vedo che tanti vedono il video e la maggior parte di voi non è iscritta, quindi mi raccomando iscrivetevi e scaricate la PuanFootball, trovate il link in descrizione e i migliori app per rimanere aggiornati sul calcio. News, risultati in diretta, è veramente puntuale nell'aggiornarvi, è gratis Android iOS, ripeto, trovate il link sotto. Ora ragazzi mi concentrerei tanto sulle parole di Dybala che ha detto è per il rinnovo, adesso non è il momento perché comunque la società si sta occupando interamente di altre questioni, sapete quali? Ne parleremo nel prossimo video perché lì la sarà un fiume in piena e cercheremo poi di analizzare la situazione, però insomma è questo il motivo principale per cui si è congelato un pochettino, si è congelato un pochetto il rinnovo di Paolo Dybala per un po' di tempo. E' da gennaio, cioè da giugno scorso, che cerchiamo di capire come finirà tutta questa vicenda e ancora non abbiamo delle risposte, non sappiamo quando arriverà questa benedetta firma. C'è Antun che ha rinviato mille volte i biglietti, vabbè che sarà stra pieno di soldi, ma mi auguro per lui che abbia l'assicurazione sul biglietto e che abbia la tarifa flex che gli consenta questi spostamenti, di vista le contingenze che la Juventus sta affrontando in questo momento, queste beghe giudiziarie, queste beghe di indagini eccetera eccetera legate alla questione plus valenze. Io in un primo momento mi sono anche spaventato, ho detto ma non è che tutta questa situazione andrà a ripercuotersi sul rinnovo di Dybala, sulla vicenda del rinnovo. È una domanda lecita, è una domanda super lecita perché non sappiamo quale sarà lo scenario da qui a fine anno, non credo che ci saranno delle ripercussioni sportive, ma magari se qualcuno del management della Juve viene incriminato per questi reati, a quel punto si può anche ipotizzare un cambio scena sul piano dirigenziale, perché a quel punto io mi aspetto che chi viene incriminato lasci ovviamente la carica sociale e quindi ci sia un reimpasto nel management là davanti. Quindi Agnelli viene condannato, è possibile che Agnelli dia le dimissioni, così esattamente come Nedved e come tutti gli altri. Adesso sono ancora innocenti, anche se indagati non è che devono dimettersi perché indagati, devono dimettersi in caso di, credo che sia un atto doveroso, in caso di condanna, ecco, che poi ci sono tre gradi, quindi bisognerà capire se effettivamente qualcosa cambierà. Però c'è da dire che tutta questa vicenda, come d'ha comunicato Juve, può andare a inficciare ovviamente su quello che è la ricapitalizzazione che è stata fatta, ha fatto già un comunicato alla Juventus, anche lì un comunicato doveroso, c'è il rischio che la ricapitalizzazione non avvenga in forma completa ma in forma parziale. E a questo punto i piani di sviluppo sul medio e lungo periodo dovranno essere rivisti, tutto qua. Però credo che non ci siano, secondo me, anche secondo alcuni esperti, delle motivazioni che portino, insomma, gli azionisti a tirarsi indietro, le banche a tirarsi indietro per questa ricapitalizzazione. Oltretutto l'ente che doveva, mi pare che sia la Consob, che deve, in un certo senso, guardare, insomma, che sia tutto a posto, ha dato il nulla osta per questa ricapitalizzazione, per cui credo che la cosa andrà avanti. Ecco, poi vedremo questa vicenda, come colpirà la dirigenza. Intanto però il rinnovo di Paolo Di Bala si è congelato. Intanto mi hanno chiesto, colpo, ma tu hai cambiato opinione su Paolo Di Bala? Prima eri uno dei suoi detrattori, ora invece sei uno dei suoi estimatori. In realtà no, io so qual è il valore di Paolo Di Bala, so anche dove non è arrivato e dove poteva arrivare, secondo me, perché è un giocatore che per le caratteristiche che ha può fare e dare molto molto di più a questa Juve in termini di continuità. Poi, poverino, è stato anche flagellato dagli infortuni, ecco, si è rotto spesso, per cui non è che è tutta colpa sua. Diciamo che anche lì gli imprevisti non lo hanno aiutato nello sviluppo e nella crescita dal punto di vista della leadership. Quest'anno però lo vedo diverso, lo vedo più carico, lo vedo più motivato e sono contento. Perché adesso difendo Di Bala e prima non lo difendevo? Ragazzi, è molto semplice, se andate a vedere la rosa che avevamo tempo fa, quando io ero a favore dello scambio, per esempio, con Lukaku, avevamo Cristiano Ronaldo, un Douglas Costa, che era un altro Douglas Costa, non quello che ricordavamo, avevamo Quadrado, avevamo dei margini di crescita potenziali pazzeschi e, secondo me, tecnicamente, anche là il buon Di Bala non era tra le priorità davanti. Tant'è vero che veniva utilizzato e centellinato, non per una questione fisica, ma per una questione di rotazioni, perché chi c'era in campo rendeva meglio e non creava equivoci tattici. Diciamoci la verità. Quindi questo tipo di ragionamento mi ha portato a sviluppare l'idea favorevole per lo scambio Di Bala-Lukaku, ma non perché avessi qualcosa contro Di Bala. Io Di Bala l'ho criticato all'epoca perché non sbocciava ancora dal punto di vista della leadership. Quest'anno gli vedo già invece un mordente diverso, una voglia diversa e quindi sarei super favorevole ovviamente al rinnovo di Paolo. Oltretutto, vi dico già che è l'unico che tecnicamente là davanti brilla. Cioè, che cos'è tecnicamente? Non è. Morata, che cos'è? Lo stiamo vedendo. Cioè, Di Bala, se leviamo anche Di Bala, ci stiamo azzoppando. Poi capisco le critiche di Bala perché qualcuno sperava in una crescita più esagerata, ecco, in un certo senso, e questa crescita non c'è stata. Comprendo. Però, capisci a me, ragazzo, se tu levi ora dalla Juventus Di Bala, rimane poco, rimane il vuoto tecnicamente. Cioè, Di Bala è uno che puoi farne almeno quando hai un livello così alto, dal punto di vista tecnico, con gli altri interpreti in attacco, che dici, boh, Di Bala, se c'è o non c'è, non mi sposta tanto. Di Bala già spostava, in realtà, all'epoca. Infatti, lo scambio con Lukaku, cioè, prendevi uno che spostava, poi un altro che poteva spostare anche tanto. Ora, se levi Di Bala, chi prende? Chi mettiamo? Chi mettiamo in campo? Quindi, perderlo a zero è una follia, in questo momento. Perché ti devi dissanguare prendendo un attaccante valido nel mercato estivo. Perché, comunque, ha a cuore anche la causa Juve, lo sta dimostrando, e quindi benvenga per me il rinnovo di Di Bala. E, guardate bene, non è il miglior numero 10 al mondo, per carità. Però, in questa Juve, in questo contesto attuale, Di Bala è una spanna sopra tanti della Juve. Cioè, è uno dei punti, è una delle vete più alte. Prima no. Prima no, c'erano i giocatori che erano più forti di lui. È là che sta il ragionamento del sottoscritto. E tutta questa cosa qua. Prima era un'altra Juve con altri giocatori, e con quei giocatori, Di Bala poteva essere la celiegina sulla torta e la sublimazione, ma potevamo anche farne a meno, perché la torta c'era. In questo momento Di Bala è la torta. Cioè, la differenza è questa. Quindi, sono favorevole al rinnovo di Di Bala, e mi fido ciecamente di ciò che dice Romeo Agresti. Perché Romeo dice, il rinnovo è pronto ad ottobre, il rinnovo si farà. Questa vicenda, ad oggi, non mette i bastoni tra le ruote per il rinnovo. Per cui, è vero, la società si sta concentrando tanto su questo aspetto, e poi tornerà sul rinnovo di Di Bala. Ma anche Di Bala, in realtà, riguardando poi l'intervista, era abbastanza tranquillo e netturbato. Tanto è vero che, secondo me, anche le sue prestazioni la dicono lunga sul fatto che lui sia straconvinto di rimanere qua. Poi, ragazzi, mai dire mai. Succede l'imponderabile, cambia completamente tutto, e a quel punto Di Bala può fare anche altre scelte. Però mi pare che la scelta della Juventus non sia ancora, in un certo senso, toccata da queste vicende giudiziarie. Ebbene così. Va benissimo così. Signori, questo è tutto, ci rivediamo in un secondo video, sul tardi, ecco, verso le sette e mezza, magari, 19.30, che analizziamo un paio di cosettine, che c'è il dente avvelenato, ok? Ciao belli, e sempre fino alla fine, forza Juventus! Grazie a tutti!